Ciao, sono Matteo e nella vita faccio il commercialista. Per oggi il mio compito è quello di essere la tua guida per farti entrare nel magico mondo di contabilità in cloud e avere una visione generale delle funzioni del software, una rapida carrellata di tutto quello che puoi fare, che renderà la gestione della tua contabilità e del tuo business veloce, semplice e perché no, anche divertente. La mappa concettuale che vedi mostra i principali argomenti che saranno trattati nella lezione odierna, mentre successivamente potrai vedere direttamente le schermate di contabilità in cloud con cui ti illustrerò i passaggi chiave da seguire per cominciare a utilizzare il software. Sul nostro canale ufficiale YouTube trovi anche delle video guide più approfondite che potrai visualizzare gratuitamente. Oggi tratteremo il ciclo passivo e quindi la gestione degli acquisti. Come già anticipato nelle altre lezioni, questo è uno degli argomenti più importanti insieme al ciclo attivo che caratterizza e compone la gestione del ciclo IVA. Come naturalmente saprai già, le fatture di acquisto, escluse quelle del regime farfettario, sono soggette alla fatturazione elettronica e pertanto transitano dallo SDI e possono essere importati direttamente in contabilità in cloud attraverso un'apposita funzione, con un notevole sparmio di tempo e con un sensibile aumento dell'accuratezza dei dati inseriti. Ora ti mostro come puoi fare. Clicca sul menu acquisti e successivamente sul menu ricezione fatture elettroniche e come noterai verrà visualizzato un elenco di fatture. La prima colonna indicherà lo stato. Se vedi ricevuto, la fattura è pronta per essere importata in contabilità cliccando sull'icona destra con la freccia rivolta verso il basso. Si aprirà la maschera di caricamento che potrebbe essere già compilata quasi completamente se il fornitore è già censito e conosciuto e gli è stato attribuito un conto su cui allocare il relativo costo. Pertanto dovrai unicamente verificare i codici IVA e la relativa detraibilità. Ovviamente la prima volta che il sistema incontra un nuovo fornitore ti proporrà di inserirlo in una grafica e se sarai così lungimirante da inserire anche il relativo conto riferito al costo tutte le volte che arriverà una fattura da quel fornitore il lavoro risulterà più semplice e veloce. Terminato il processo la fattura verrà protocollata e trasferita nella sezione fatture di acquisto così da poter poi essere contabilizzata e resa scolpita nella pietra e non più modificabile se non con una scrittura di storno e rettifica ad eccezione però dei conti e delle descrizioni delle scritture. Pone attenzione, allegato alla registrazione della fattura trovi una copia della stessa visualizzabile in formato di HTML ed eventualmente stampabile. Terminato il processo la fattura verrà protocollata e trasferita nella sezione fatture di acquisto così da poter poi essere contabilizzata e resa scolpita nella pietra e non più modificabile se non con una scrittura di storno e rettifica ad eccezione però dei conti e delle descrizioni delle scritture. Pone attenzione, allegato alla registrazione della fattura trovi una copia della stessa visualizzabile in formato di HTML ed eventualmente stampabile. Naturalmente puoi anche stampare e registrare manualmente le fatture di acquisto se non ti fidi della procedura però sarebbe un'inutile perdita di tempo. Perché fare un lavoro inutile? Ovviamente invece per le fatture soggette a regime forfettario che non transitano nello SD dovrai procedere alla registrazione manuale anche se per esperienza risultano essere molto poche e inserire tutti i dati trovati sulla fattura cartacea o ricevuta via mail in formato PDF. Ricorda che esiste una app per smartphone, Reviso Expenses che ti consente di fotografare la fattura cartacea e inviarla a sistema per poi allegarla alla scrittura contabile e poterne tenere traccia. Nella stessa sezione degli acquisti trovi anche il menu scadenza e fornitore dal quale potrai verificare se hai inserito in cassi e pagamenti le fatture dei fornitori ancora da saldare e quelle saldate utilizzando i filtri di ricerca presenti a sistema.